Stavano presso la croce di Gesù, sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleofa e Maria di Magdalena. Qui siamo all'epilogo della storia di Gesù. Ma con quale trepidazione, con quale ansia Maria ha seguito in antecedenza le fasi del processo? Nella piazza di Gerusalemme? O di lo spaventevole urlo non costui ma barabba. Come? Vogliono barabba e non il figlio mio che ha fatto tanto bene, che è il loro salvatore. Crucifigge questa parola terribile della folla che grida. Crucifigge, cioè a morte mio figlio, mamma mia, povere Maria. E poi la sentenza di morte pronunziata dal procuratore romano, accompagnata dalle sataniche grida di giubilo della folla. Possiamo immaginarci quale strazio, quale sofferenza ha dovuto provare il cuore materno. Fu poi testimone delle orribile cose fatte a Gesù sul Calvario. Lo vide denudato, inchiodato e innalzato sulla cruce. Quanto quei chiodi perforavano le mani e i piedi, Gesù non è che stava muto, gridava per il dolore, perché era un uomo perfetto. Gridava dal dolore e quel grido colpivano il cuore della mamma sua. Ora, facendosi strada tra la moltitudine, si può avvicinare alla croce e può guardare il volte del suo figlio. La croce non era molto alta, per cui Maria poteva guardare bene il lineamento del volte del figlio suo, poter vedere quegli occhi insanquinati. O quanto suo figlio era circondato dall'ammirazione e dagli osanne del popolo, è stato sempre discreto, non ha mai partecipato al trionfo del suo figlio. Ora che il suo figlio sta sulla croce, sta sullo proprio della folla, lei è in prima fila. Così la madre non poteva vedere da vicino il volto insanquinato e addolorato del suo amato figlio, poter vedere nei particolari le ferite aperte e sanguinanti, poter mirare quel corpo santissimo tutto tremante e percorsa dalle orribili brividi di febbre. I suoi occhi materni dovette reincontrarsi con gli occhi agonizzanti di Gesù. Quale strazio per il suo tenerissimo cuore di madre, tanto più che era nell'impossibilità di prestare il pur minimo sollievo alle sofferenze del figlio suo. Non poteva strappargli nessuna spina, non lenire alcune ferite del suo corpo martoriato, non porgere una goccia ristoratrice alle sue labere riarse dalla sete. Questa è la radiografia di Maria ai piedi della croce. Veramente come dice la Chiesa nella sua liturgia su Calvario, Maria ha meritato la palma del martirio diventando la regina dei martiri. Le indicibili sofferenze di Gesù sulla croce erano un'amorosa immolazione di sé per l'onore del Padre e per la salvezza del mondo intero. Tu non hai voluto sacrificio né offerta, ma mi hai preparato un corpo, olocasto, anche per il peccato dei non graditi. L'immolazione sofferta della madre presso la croce era un'amorosa immolazione di sé con Gesù. Ella un giorno aveva pronunziato a Nazareth ecco l'ancella del Signore e ora si faccia di me secondo la tua parola. Il dono sacrificale del figlio era anche il dono sacrificale della madre. Quel corpo martoriato, quel sangue colante dalle ferite aperte erano anche proprietà di Maria formato dalla carne e dal sangue di lei, cresciuto con le cure e le premure del suo amore materno. Ella, quindi, sentì come proprio tutti gli strazie del figlio, sperimentò come proprio le umiliazioni e l'abbandone di Gesù. La sua anima fu trapassata dalla spada del dolore. I sentimenti del figlio erano anche i sentimenti della madre. Zero per la gloria di Dio, amore per la nostra salvezza. Maria è la Vergine offerente. Nell'episodio della presentazione di Gesù al Tempio, la Chiesa guidata dallo Spirito ha scorto un mistero salvifico relativo appunto alla storia della salvezza. Ha rivelato, cioè, la continuità dell'offerta fondamentale che il verbo incarnato fece al padre, entrando nel mondo. e ha visto pronunziare la universalità della salvezza, poiché Simeone, salutando il bambino e la luce per illuminare le genti e le glorie di Israele, riconosceva in lui il Messia, il Salvatore di tutti. Ha inteso il riferimento profetico alla passione di Cristo, che la parola di Simeone le aveva congiunto il vestibolo di figlio segno di contraddizione e la madre, a cui la spada avrebbe trafitto l'anima, si avverarono su Calvario le profinzie dei profeti. Chi più della madre del dolore può avere diritto al nostro amore di compassione e di riconoscenza? Chi più trattenersi dal pianto davanti alla madre di Cristo in tanto tormento? Chi può non provare dolore davanti alla madre che porta la morte del figlio? O madre sorgente d'amore, fa che io viva il tuo martirio, che io pianca le tue lacrime. Ti prego, madre santa, siano impresse nel mio cuore le piaghe del tuo figlio. Uniscime al tuo dolore per il figlio tuo divino, che per me ha voluto patire.